Un ponte della metropolitana di Città del Messico è crollato le 22.30, ora locale, al passaggio di un treno della linea 12. Sono almeno 15 i morti e una settantina i feriti. Alcune persone sono ancora intrappolate nel mezzo, non si sa se siano in vita. I soccorritori hanno dovuto bloccare l'intervento intorno alla mezzanotte perché si correva il rischio di nuovi crolli. Sono rimasti in attesa di una gru per riprendere le operazioni. Almeno una vettura è stata investita dalle macerie del ponte, alto circa 5 metri, e situato nella parte meridionale della città. La sindaca Claudia Sheinbaum ha parlato del cedimento di una trave di sostegno. L'agenzia Associated Press ricorda due gravi incidenti che hanno interessato il servizio della metropolitana, inaugurata 50 anni fa. Uno nel 2015, quando un treno non si fermò e si schiantò contro un altro, uccidendo 12 persone, e uno a marzo dell'anno scorso. Un'altra collisione fra mezzi che fece un morto e 41 feriti.